Ah, io stavo ancora sento la musica, aspetta. Invece, vedi? Vedi come funziona il mondo? Tu senti la musica e io sono andato dentro Portal, che si... Allora, adesso... Ah, ovvio, scusate, abbassate il volume, tardi? Eh, non è tardi. A parte con che risoluzione, Portal? Adesso, vi chiedo un favore a tutti voi. Insultate Mark e Moro... Andate, su Twitter. Su Twitter. No, sono Mark, ma che tanto esco, comunque non lo ho caduto a Maggi. No, Moro è vero, Moro non ha fatto nulla. Moro ha risposto... Andate su Twitter e insultate Mark, perché non c'è il live e non ha avvisato. Insultatelo, insultatelo. Noi volevamo vederti e invece no. Allora, aspetta un attimo che aumento, tipo... Come sono? Opzioni? Tipo video? Sai, una risoluzione che non sia del cazzo... Che cazzo di risoluzione è 1176 per 664? Aspetta, tanto ne ringraziamo. Nel 90 per i sei mesi, che l'abbiamo fatti, grazie mille. Il frigo a legna. Ma è particolare il frigo a legna. Vede 1097. Piem. Ma porca sono andato tardi, giusto che l'ho visto alla fine della ruolata di ieri. Oh, peccato. Vi è piaciuta la ruolata di ieri? Vi siete divertati? Adesso, scusate, devo ancora sistemare un po'. Credo di sì, non... Per il bisogno di sì. Quindi... Iniziamo con una nuova portata. No, adesso andate su Twitter e insultate Mark dicendoli perché non ha avvisato che non c'era. E se volete farlo anche a Espetta, non pa Espetta. Comunque, come al solito, non cacherà nessuna. No, nessuno spoiler di... Farfader fino a domani. Fino a domani, non fai niente. Sì, troppo veloce. Pink smell wood, o c'è già siete. Due mesi, grazie mille, guarda fornata. Quanta sensibilità. Ok, però va bene. Tecnicamente, se va tutto bene, potrebbe finire Portal in questa... Sì, dovrei... Di solito riesco a finirlo intorno a un'oretta. Quindi mi dispiace NOM, perché non so quanto capirai. Però, come vedi? Perché andrà abbastanza veloce. Là in fondo, ultimo a destra, c'è la torta. Quindi, torta. 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 Tra l'altro, per chi guarda un po' di design, eccetera, l'inizio di Portal è fantastico. Perché da qua vedi sia il... Cioè, quando ti svegli, ti alzi e sei così, vedi il contatore, e poi vedi questa cosa qua, che è tipo... E poi, niente, ti esplode la testa. Più o meno così. E, tra l'altro, la cosa bella, no? Che uno dice, Eh, ma i tutorial fanno sempre cacare. Porta le tipo 90% tutorial. Solo che non te lo fanno pesare. No, no, non è il 2. È l'1. E, tra l'altro, MAD MONKEY CHANNEL, grazie per la sub, grazie mille gentili, e mille e mille gentili. Oggi esce il video di Rainbow, con la prova dei nuovi operatori, e giovedì esce un video su un nuovo gioco. E' vero! Che non è un nuovo gioco perchè voi l'avete già visto. E devo montare. Vabbè. Ah, dobbiamo anche cambiare il comando di quando è la prossima sessione. Che non si sa ancora. Probabilmente è prossima domenica. Cioè questa domenica di video. Sì, dovrebbe essere questa domenica. Entro domani, dopodomani vi diremo i dettagli. Sì, qua finora non abbiamo ancora la portal gun, quindi dobbiamo aspettare un po'. Voglio questa voglio. Questa. 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 Aspetta, forse Mark aveva avvisato Call of Duty Launcher. Non lo so. Mi sta facendo in dubbio adesso. Come hai fatto a confonderti con l'inizio dei portal? Siete contenti voi che domani inizia la scuola? Ma in realtà qualcuno è già iniziato oddio. A parte che... è difficile usare Roll20. Devi prenderci un po' la mano per settare le schede, però non è... Rispondo io per i not... Boh, è in pausa. Un momento. Semplicemente anche a definire chi è stato. No, l'uso tranquillo. E sono in pausa perché... Per come sono fatto, se inizio a fare cose che mi piacciono... Torno a chiunque. E quindi, volendo finire io all'università, devo qualcosa... Eh, paffina, nel dubbio comunque va bene, al massimo si tiene gli insulti per la prossima volta. Sarebbe anche insultare Espo, però vabbè... Intanto lui... Intanto lui non guarda. No. Sto studiando tecnologie web multimediali. Anzi, al momento sto studiando base di dati e algoritmi e strutture dati. Giovedì inizi già all'università? Non è un po' presto per l'università? No. Quindi, il 14. Non c'è altro, non è un'esame a fine settembre. No, più o meno ci siamo. Non arriva. Fanculo, Marco. Salve. Salve un cazzo! Non vi insulteteli becchi comuni. Io vi spaccolo a faccia, avete capito? Comunque vi becchi lo stesso. E allora a sto punto andate a insultare Espo. Insultate Espo. Andate a insultare Espo. Fatta. Fatta. E' una Speedrun support... Non è proprio una Speedrun però... E comunque avevo ragione, non aveva avvisato. Quindi... Non avevo avvisato, sto stronzo! Sto stronzo... Lucine! Lucine che mi arrivano in faccia! Lucine che arrivano in faccia! Ma anche io mi ricordo che iniziasse a fine settembre, inizio ottobre. No. Ma magari dipenda anche dalla mia settembre. Dai! Tu! Eh ma perchè io dovevo arrivare giusto! Eh non tu sei comunque lato giusto! Vabbè due minuti dai! Due minuti ci sta! Eh ma comunque sempre ritardano, si arriva giusti! Poi non si arriva giusto! Si arriva prima! Perchè non si sa mai cosa si fa dopo! Non si sa mai chi c'è! Ah si, posso abbassare un attimo il volume di GLaDOS? Buongiorno amici! Ok. Vedi? Si muore e ne ricomincia il 2 ottobre. Io so che c'è gente che aveva gli risultati della missione all'inizio ottobre, quindi giuro che l'università inizia a metà ottobre. Tu lo ha? Guarda il doggio! Circa? Mamma mia! No aspettate! Vabbè aspetta! Cambio il comando di Pathfinder. Sto già domenica prossima, probabilmente. Sì! Ma buona... Bello! No fe! Anch'io voglio! Fino a ottobre! E cazzo! Ah no è vero! Più malà! E poi là! E' da troppo che non gioco! E' davvero troppo! Però... Eh sì! Già andando abbastanza veloce direi! Sì sì no! Ma non ho ancora la seconda, quindi per ora posso fare solo il blu. Quanto speedrun! Eh lo conosco a memoria sto gioco, è quello il fatto! Questo è il primo? Sì! Vabbè se il primo non durava mai! Dai! Il primo durava pochino! Va bene, non riesco! Dai! Fantastic! You remain resolute and resourceful in an atmosphere of extreme pessimism! Pessimism! Dormire con la finestra aperta non è stata una bellissima! Cosa dici questo o il secondo? Ehm... Per farlo in velocità questo? Beh sì! Però il secondo è più completo! Perché... Il secondo... Sì ha dei momenti molto carini! È più longevo! Da questa settimana torneranno i tre video settimanali? No! Torneranno da ottobre probabilmente! Ah! Tra l'altro! Tra l'altro! Da domani! E per ogni martedì! Dalle 15 alle 16! Streameremo sul canale NVIDIA! È vero! Sì! Importante! Quindi se volete venirci a trovare saremo dalle 15 alle 16 di ogni martedì sul canale NVIDIA! Esatto! In qualsiasi caso comunque... Oltre alle solite live regolari! Al martedì ci saranno sempre le solite live più questa qua di un'ora! Tu canale NVIDIA! In qualsiasi caso comunque penso che... Spammeremo un attimino! Probabile! Almeno per la prima! Quante volte ci hai giocato? Abbastanza! Abbastanza ci hai giocato! Diciamo abbastanza! Ah! A me Portal mi è sempre piaciuto ma non da rigiocare! Se lo fai una volta! No! Ah no! Merda! Ho sbagliato! Ok! Era la! Ho sbagliato! Eh! Ho perso tempo! Ho perso tempo perché non me lo sono ricordato bene! Faremo! Faremo gli stessi giochi che facciamo anche qua! Faremo Rainbow! Faremo... Non so! Adesso vediamo! Ho sbagliato! Mi sono dimenticato! Sono completamente dimenticato di sto qua! No! Pender! Abbiamo carta libera di fare quello dei giochi che vogliamo! Cioè faremo gli stessi giochi che facciamo! Anche lui il porno? Quello non credo! Noi facciamo parte del network! Si c'è scritto sotto! Game Division che è il Tom's Hardware! Un network di Tom's Hardware! Un sacco di stream! Ho avuto problemi con sto livello! Che canale su Nvidia? Che si chiama? Dovrebbe chiamarsi Nvidia G4C Credo! Vabbè! Si ma... Così! Esatto Pender! L'hai capito! No! Non l'hai detto! Tu? No! Pensavamo già domani di fare Rainbow! Vabbè! Andiamo! La noia sto livello! Comunque! Se volessi donare solo ad uno dei termosofoni come si fa? Eeeh... Dividiamo tutto quindi... Ti mandi una lettera a casa a tutti! Esatto! Buongiorno Metti! Dai! Waffle! Pie Pietro! Signor Waffle! Non posso sapere! Signor Waffle! Grazie mille! Tre mesi! Tre mesi! Giusto faremo Prato Fiorito per un'ora! Palle dai! Vabbè è vero! Avremo... Che noia sto livello! Se faremo gli stessi giochi! Si! Ma magari faremo Rainbow! Fine tanto pomeriggio ci siamo... Cinque ci siamo di solito! Faremo Rainbow! Dovremmo comunque trovare qualche altro gioco ed è il motivo per cui non facciamo i tre video settimanali! Sì anche perchè abbiamo meno giochi rispetto a prima! Esatto! Ti gioco qualunque! Tre mesi! Grazie mille! Ti gioco qualunque! Tizio underscore qualunque underscore! Esatto! Si comunque come diceva Mark è per quello che abbiamo calato i video! Perché non abbiamo... Ma è un federaico! Fanculo! Cos'è? Dobbiamo prendere qualche altro giochino in più perchè sennò vedete sempre gli stessi! Eh! Esatto! La cultura di base! Ti ti ti! Ah! Ah la ecco! Buongiorno! Ogni martedì dalle 15 alle 16 salvo cambiamenti! Dovremmo iniziare da domani! Dai! Dai! E dalle 15 proprio finita la live di Karim! Partiamo! Oh non vuoi per un'ora! Karim passa un su! Oh non vuoi sul canale in video! Si abbiamo... Con coincidenza abbiamo tutti i schede video in video! Tra l'altro quindi... Che però non vale perchè... Un ottimo cenno! No abbiamo tutti o 970 o 1070 e moro la 1080 quindi... Eh ma Janjiraya il problema di quei giochi che hai detto... A parte COD che comunque qualcosa faremo il resto non vanno bene per i video! Infatti non pensate siano... Cioè che ci servono giochi a casa! Poi va bene... Qualche gioco... Cioè qualche gioco dove gioca uno e gli altri... Parlano tipo adesso... È davvero troppo! Sì quelli vanno bene in live però! Però vedi per il canale non vanno bene! Far cari 5 lo faremo! Far cari 5 lo faremo! Faremo la copp! Perchè quello è figo! Alla fine abbiamo fatto il 4! Quindi faremo anche il 5! Sì per frai bro! Niente! Tanto ma anche con noi ce l'hanno prossimo però quindi! Allora con calma! Speriamo che Destiny... Vediamo di farlo sto cosa! Eh Destiny vediamo anche perchè... A me ha rotto le bar... A meno che è andato un metà volta Destiny! Quindi vediamo! Vedremo! Anche siamo un po' a corto! Fanto in una culturista non mi piacerebbe nemmeno diventarci! Speramente! Mi piacciono i fisici definiti ma non quelli troppo... Venosi, troppo evi! Fa schifo io! No mi sto incasinando! Giusto un po'! C'è un giochino che faremo sicuramente! Non giocavo! Cos'è tutta la scheda? Oh mio! Ah si! Per il martedì sarà così! Sarà un casino perchè sarà tutta la giornata via! Beh vabbè la fine semplicemente un'ora in più noi al pomeriggio! Sì! Vabbè! Allora Dead by Daylight ci stiamo pensando! Sì! E anche quell'altro! Non mi ricordo come si chiama! Eh! Pender quello lì ogni tanto lo facciamo in live! Anche perchè in video lo vogliamo fare! Eh! In live l'hanno già fatto! In video esce giovedì! Anche perchè vogliamo sbloccare le cose! Esatto! Per bloccare le cose lo si fa in live! Ma Pender quello è uno dei giochi già calcolati da fare! Eh! Io ho due live aperte! E poi c'è un altro gioco che dobbiamo prendere! Che abbiamo già dato occhiato! Un paio in realtà! Solo che uno costa in una maniera incredibile! Venerdì tredici! Sì! Venerdì tredici aspettiamo che costa un sacco! Eh! L'altro vedete lo prendiamo! No! L'altro dovete capire che noi dobbiamo prenderne tante copie di un gioco! Esatto! Per non toccarci! Quindi... Ci costa! Non è una cosa facile! E non sempre danno le chiavi agli youtuber o gli streamer! Ah no! Veuro! Tu 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 tu! Tu tu tu! Tu 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 tu! Tu 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 tu! Tu 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 tu! Tu 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 tu! Tu 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 tu! Tu 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 tu! Me lo ricordo a sto livello! Sì AD母 che me li ricordo quasi tutti! D Flo... Dai! Dai! Block Storm? No, no niente L'avevamo anche già provato Si, quello è il classico gioco co-op che però non piacciono la gente da vedere purtroppo Cioè se lo facciamo in live è un po' come Dungeon Defender, poi ci ritroviamo 300 e non ve lo guardate, lo sappiamo già Poi... Purtroppo non tutti i giochi van bene Wow, Planet 6-2 no eh Eden Planet 6-2 non credo più se lo guardiate Ho fatto un po' di casino Ah, io e Moro dovremmo fare una cosa in live, adesso vediamo quando e dove Eh, boom E perchè? E poi... POP 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 Probabilmente lo faremo in live Comunque quella cosa è che abbiamo in mente Puoi donare uno o tutti i vostri ordini vitali Per l'apertura di scienza e self-esteem Per le donne, è vero Marco! Marco ci sono le terretteeeeee! Ma perchè proprio le mie tette? La situazione molto leggera Che nessuno coglierà Anche perchè non era contetta la situazione Ciao disarma! Ciao sior! Ah no sior l'ha detto saluto e non so Saluto anzi Ah bravo Soli se l'ha capita guardalo E io porca manca lo so in memoria sui stori Ciao! Ciao chi è? Un ragazzo cinese che ci segue? Si Che mi ha detto ciao e quindi... No ti perlissi Ahia! Guarda Ale sei proprio un astrophysic Un eroe casuale! Grazie mille! 9 mezi E sono 9 come i termosifoni di uno Uff! Ahia! Ma sii ma sii Ma sii ma sii Dai 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 dai! Bau 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 Non è d'accordo il cane qua Niente Sono morto comunque Ora sono morto Guarda L'ho già lanciato? Ora l'ho lanciato Bene Che notti Che notti Che notti Che notti Ah potevo fare un attimo il furbo e non l'ho fatto Vabbè fa niente Allora intanto tu vai via Che non mi piace Vai via Allora Allora uno E due Intanto puoi questo Prendi Dai che No? Ok Tipo qua? Dai prendilo Stronzo! Vuole uccidermi Ok Eh Eh Dai Pago Fegis Uno e due Le consigliate Che da giocare come single player Assolutamente si 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 C'è la campagna L'una è carissimo Mi deve piacere il gioco L'una è davvero carina da giocare L'una è bella e il due Penso che sia uguale Nel senso il single player E il due però da soli Quindi se lo provate Dite che palle Vuol dire che non vi piaceva Già di base Perché è uguale Che palle Anzi Diciamo Qua c'è qualcosa Non so che altri giochi Dovano uscire in co-op Quest'anno Sinceramente Non me ne... Infatti vedi Mi viene in mente Quest'ultimo tratto Potevo saltarlo Se facevo il furbo Ma Non faccio mai il furbo Non faccio mai il furbo Non uccidermi Non uccidermi Non uccidermi A mia mamma Che canta celentano Mi mancava Comunque Ora mi uccide E poi avevamo quell'altro gioco Quell'altro gioco Dove Che avevamo preso le chiavi Come si chiama? Quello che Siamo tutti invisibili E dobbiamo capire Dalla scherma Del... 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 Ah, bellino quello Dovevamo provare Ma l'abbiamo preso? Parca abbiamo delle chiavi Non mi ricordo come si chiama Però... Quello era molto carino L'avevo visto già... Forse da Sinhanner Forse da Sinhanner l'avevo visto Io non mi ricordo Ciao Korn in fattoria Quello lì sembrava... Ah, Screensheet Ciao Korn Screensheet Quello lì dobbiamo provarlo in live Anche in video magari Potremmo farlo Dovremmo averli capite reward Io mi ricordo che avevamo divise le chiavi Ma le avevamo già divise? Eh, mi pare di... Sì Io non ce l'ho Io sono sicuro che non ce l'ho No, ne avevamo tipo quattro Io forse ce l'ho Aspetta... Io mi ricordo di avere... Di avercelo su Steam Sì, ce l'ho anche già scaricato Sì, ce l'ho anche scaricato Screensheet Io ce l'ho Sì, ce l'abbiamo... Fai vedere se mi fa vedere chi ce l'ha Ma... Questo lo possiamo fare sia in video che in là Più da video forse che da live Ehm Stiamo io, Liezer, Corvo Oh lui è spedito presù Se non ce l'hai not ce l'ha espedito Noo... No, io non ce l'ho Però ha più senso in video forse questo qua Non so Se lo streamate bisogna avere una moda apposta Altrimenti qui noi non vediamo nulla Ah Il frigo a legna Grazie, quattro mesi Sì, l'avevo visto anche prima Incredibile proprio lui Eh sì Guarda che... Dai Così... Siamo sicuri di aver ucciso tutti Più o meno manca quello Ok, lo facciamo da qua Orle... Va Bene Eh, non è normale will zero Tecnicamente dovresti averli ricevuti No, stronza No, ma ce li hai sicuro Stronza Non può fare selezione Esatto E' una cosa automatica E' una cosa automatica Ce l'hai sicuro da qualche parte Controlla bene Ma cosa? Eh, i video della synergy Ah no Per forza, non puoi non averli E' una cosa automatica proprio E' una cosa automatica proprio No, infatti Ah, che bello Daisy Che bel regalino, eh Yeeeh Buongiollo Fempas Buongiollo Ci provo Yes Eeeh Abbassati Eeeh Ok A posto Un'ostra Hunter se qualcuno lo prenderà sicuro Vado subito Lo prendo mostrare Io ho giocato solo il primo Però l'avevo finito tutto quanto E l'avevo giocato su PSP Quindi per me sarà un salto di qualità Ma noi Belaschi Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Che palle che mi ha tolto il... Eeeh Ducarlo su una cosa comoda Sarà bellissimo Mostrano Allora Arancio Quindi Blu Arancio Limone Trago a lampone Tesca Banana Fica Americana Va bene Marco Eh Sono tornato bambino un attimo Fammi fare Va via Vabbia Vado 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 Voglio la torta 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 Quali siamo al... Al 18 o al 19 18 No questo al 19 Qua c'è la torta E invece Quando sei giovane Vado Vado Non Vado 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 E niente Ora aspettiamo Io ho trovato un gioco che è bellissimo Qu 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 17. Vi voglio bene termomiconi, ma soprattutto voglio bene Mark, che mi fa sempre un'italeria. Grazie per i quattro momof. Però non voglio che muori. Grazie. E' molto gentile. E' un assassino. C'è questo gioco che è Timbleweed Park, che penso sia dagli stessi creatori di Monkey Island, ma non sto sicuro. Che appena l'ho visto ho detto, magari lo faccio da solo in live, poi ho visto il prezzo, però... Anche in sconto questa 13 euro comunque, che per un'avventura è un po' altino. Però sembra veramente caruccia, devi risolvere dei misteri in questa cittadina. Mi ha ricordato un po'... Coso Broadchurch. C'è questa cittadina piena di problemi e tu devi andare lì a scoprire le cose. C'è la torta! Che si sta chiaramente cucinando. Chiaramente. E niente. Ora inizia effettivamente il gioco. Perché finora era tutto tutorial praticamente. Sì, che è proprio il metà gioco. Il tutorial. Sì, è infatti. Vabbè, appena mi ricordo e c'ho rivoglia di giocarci, prendiamo Descapist2 e vediamo di piazzarvelo nel sedere. No, così me lo dici Marco? Qua potrei morire perché il fuoco fa un po' di spiazza. Oggi tra l'altro guardatevi il video che è il video di Rainbow sulle nuove operazioni. Yes, e finalmente sono tornato io! Eh sì, torna a registrarlo Mark. Dai! Stronzo. Vabbè, non lo registro più, allora è noto. Scusami. Sì sì, tanto io. Avete mai giocato ad Undertale? Io no, però ce l'ho adesso, quindi lo posso fare. Questo è un ottimo successo. Ah è questo. Io in realtà c'ho hype per FIFA? Non so per quale modo, non chiedetevi per quale motivolaughs.. Ho sentite, faccio la cosa assolutamente inutile. Eh .. c'ho hype per FIFA. Eh Rainbow Six mi sono dimid.. Purtroppo... Sono partito bene con le qualificazioni e sono finito così così, quindi sono oro 4. però vabbè, margine di miglioramento se n'è potevo essere almeno oro 2, oro 3 però vabbè, non importa le ultime partite sono andate un po' così di qua, di su ah sì, Korn, ottimo, lo proviamo di giù si può, lo proviamo ok, il test è over ora, vieni e si, Dark, ma c'è il test un leggero abbraccio per me leggero, perché dai no potevi essere oroti, bravissimo, biorpolo grazie, grazie, grazie va bene, Gabri, fatta ma fammi da mentore su Rainbow Six non ne ho le facoltà scatamento e basta quando divento bravo per davvero, sì palle dai, che palle fammi passare, fammi passare ho la pagliura nel corpo che oggi non dà la dentista non c'ho voglia mai non deve averci il pagliugo dai per paura i dentisti magari un video su film ma no, solo io, non è vero beh, se lo prende anche il yuk che vuole da fare il video voi due tanto, quando parla si, se lo prende volentieri ma non credo che lo credo tanto, siete quelli più bravi a giocare quindi viene anche più bello devo, devo chiederglielo se lo prende quando ti prendi a te? perché pensi che stai a te? io devo andarci tre volte nel giro di dieci giorni anche in solo dai sni nel senso che alcune le faccio da solo altre con gli altri però quando le facciamo in gruppo le perdiamo non so dove non so dove si fa rivedere la sfida suonano le trombe la sfida di mark soffi va non vince pod aspettiamo di non morirei schiacciati anche io grazie telecamera che con calma si gira oggi giovedì e lunedì prossimo forse odio sta parte appunto evi io su fifa quando facevamo appunto appena sbagli un minimo ti uccide ah qui se di questa volta non ricordo sono tornato bravissimo eh mark non sarebbe male la la sfida di mark su fifa e ma non c'era nessuno e lo fai solo con gli esterni mv2 ce l'hanno tutti più o meno fifa e anche quegli esterni ce l'hanno su playbook è che un po' di pro club mi piacerebbe rifarlo per voi che non vi interessa il gioco costa veramente troppo beh no dovremmo farlo su quelli vecchi o facciamo gli access che costa 3 euro ah merda è vero eh ma comunque il fifa ce l'hai alla fine dell'anno niente è andata ormai faccio schifo e i video di fifa erano belli erano divertenti i video di fifa riguardarli muoio da ridere però non so perchè la gente legge fifa e si spaventa e più che altro non erano neanche era ancora quel periodo in cui non montavamo i video cioè praticamente era il periodo in cui facevo solo io i video e non praticamente non li montavo dov'era no perchè la gente legge fifa e si spaventa e dice ma a me va schifo però pro club non c'è cioè pro club è proprio pro club non è proprio cosa diversa andavate matti per coso come si chiama quello del calcio farlocco freestyle football andavate matti per freestyle football pro club era molto più bello a mio parere dov'era? non mi ricordo sapete che non mi ricordo? la ecco dove i nostri video di fifa non sono video di fifa per davvero se sono fifa in cui c'è esprit che prende la palla e la perde e quindi noi che urliamo e stiamo cacando i video in cui eravamo veramente tanti che c'erano dei video in cui c'erano carim c'erano ciccio però veramente tutti e poi carim comunque quest'anno FIFA l'ha provato quindi magari se lo sa ho sbagliato ok se lo prende magari glielo chiedo anche di farci ah il video sul product placement di fifa tra l'altro ho avuto un deja vu incredibile è la vostra mia serie preferita addirittura di fifa eh ma sei per caso l'avevi già fatta una live su portal e io parlavo me la ricordo ma è un anno fa non è un successo per davvero no non lo fa no oh no mi vuole attaccare sopra di lei vedendo i commenti che state facendo ho fatto che mi ha voglia di ritrovarlo però eh però effettivamente tipo io che lo gioco anche per i fatti miei io li stendo si e noi puoi comprare uno nuovo ma allora tutti i tttt stanno ti uccido dall'alto assassin's creed ahia fatto effettivamente potremmo prenderlo su console eh io no beh è perchè sposta di più e poi c'è comunque io lo gioco con david principalmente lui lo prende su fifa eh però mi viene veramente voglia di rifare un po' di pro club non lo so però dovremmo farlo sul fifa vecchio dovremmo farlo sul fifa vecchio però troppo no appunto o lo facciamo verso la fine dell'anno che magari che c'è negli access si prende un mese si fa un paio di video fatta se volete potete prenderlo perchè l'unico fifa che abbiamo tutti è il 14 ma mi sa che ormai trovare una partita in quel fifa lì è un po' impossibile no no non ha senso perchè non è che ci siano più lì sei proprio quel fifa poi bisogna vedere perchè magari il 18 c'ha qualche modalità nuova che mi sta sfuggendo adesso si può fare che è divertente prendilo non so vedremo dai vedremo vedrò saltaci ok no appunto la gente si spaventa perchè legge fifa e dice eh ma che schifo non c'entra niente cioè noi non facciamo fifa cioè quello che facciamo a noi è tutto fuorché giocare a fifa poi poi vi ripeto se vi è piaciuto freestyle football che era il personaggio che andava solo dritto a destra a sinistra e indietro fifa ha lo stesso concetto solo che puoi fare robe più belline perchè è realistico ehm vedremo comunque adesso gli acquisti quasi certi per ora c'è solo cod più consorte o l'altro e tecnicamente desti eh non si sa ho fatto un disguido ehhh va bene coglione ho trovato un disguido ho trovato c'è stato io ero in bagno qual era la tua scusa esprimente a parte che la tua non è una scusa marco ero in bagno penso che ero in bagno sono sincero ero in bagno sono arrivato comunque a due minuti mi sono più guida ehm differente cheoo che puoi che puoi poi la cacca la fa chiunca dai ma destiny ma vedremo ma destiny ma vengo vedremo ma destiny io lo voglio giocare non posso però è quello che mi fa nervosire e poi comunque non stiamo sentendo... adesso obiettivamente non stiamo sentendo belle cose dalle recensioni di test di due, da nessuno provo zero, quindi boh a me è passata la voglia di prenderlo vabbè se vinci è uguale all'uno a me va anche anni perchè giù non ho giocato qua quindi non mi importa, in quanto è che sia giocabile il team no ma hanno detto che comunque ci sono poche ore c'è gente che in 40 ore l'ha finito, qualcuno dice 40 ore è bestia e no, è un MMO, 40 ore 40 ore mi si può merda, scusa eh, 40 ore per un MMO non è tanto e non puoi aumentare il gioco solo aumentando i livelli noi adesso prenderemo COD, semplicemente perchè vogliamo trovarlo, lo prenderemo su console e lì qualcosa ci faremo sicuramente comunque siamo alla boss finale ragazzi eh lo so Marvel, ma ci credo sei a 35 minuti ma sono migliorato com'è possibile che vuoi dire e niente io li porto due dopo e niente e poi che facciamo poi se volete possiamo che davvero perdere possiamo fare le mappe quelle potenziate che l'ho fatta tipo una volta sola e sono stronze alcune 3, 2, 1 beh anche gli MMO più scrausi hanno una storia lunghissima insomma 40 ore pure M2 è più fermo beh M2 la quest principale era incredibile è lunghissima agipyro 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 stavo dicendo perchè non sto leggendo il nome del subscribe non si è buttato dentro stavo guardando su Twitter per morso vabbè 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 comunque grazie agipyro tra l'altro lui ne ha approfittato che c'è la sub a metà prezzo vedi è stato bravo ad approfittarlo approfittatene tutti stavo dicendo una cosa non mi ricordo più ah Marvel l'abbiamo letto abbiamo letto che la gente l'ha finito in 40-45 ore come sub internazionale ma poi c'è MMO solo di è finito c'è poi non c'è più niente da fare no non c'è più niente da fare c'è con solo una scusa che MMO è l'agente ha raggiunto il livello massimo e ha fatto tutto quello che c'era da fare ma che merda proprio lì ah ma è inglese Matteo Spinelli Matteo Spinelli Matteo Spinelli grazie molto non mi scognome eh si comunque agipyro if you are if you eh vabbè qualcuno che sa l'inglese dici hey hey thanks scusi vabbè no inglese welcome a Gipago hi hi thank you hello my name is va bene marco l'inglese lo capis forget him is just a little bit thank you for the subscription idiot thank you for the support thumbs up beh quanto è? quanto è il record si porta l'uno? non tanto no molto meno in 40 minuti no se se stiamo parlando di glitchless no si ovviamente penso non lo so penso una 35 guarda che sei lì lì eh ho perso tanto tempo no problem bro give me five bro va bene va bene va bene dai che pezzo di merda ogni volta no vieni 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 eh si tante h in inglese c'ha tante h o calabrese e poi ripeto eh to dai qua se mi fai un mmo che mi trovi poi finisce c'è quattro ore poi finisce ti farò in testa no l'mmo deve durare tanto ma non perché sono sadico perché uno pensa ce lo prende anche comunque l'ottica lì ah c'è Roberto Calvo che mi dà tante ore di gioco ah destini uno quanto durava ad esempio dai io mi sparo io ti mi e ti sparo oh che bello che questo qua questo core qua dice la ricetta per una torta al cioccolato ma dato anche destini uno ma la storia principale dura poco ma è un mmo no che continui mi insomma eh continui infatti poi con l'espansione hai detto con le 8 minuti si quello con glitch esatto si continua con l'espansione io mi sparo in testa è ovvio che io sto parlando glitch è un mmo va avanti con l'espansione è tutto perché è un mmo se mi dira quarta ore poi devo formarmi lc non è più un mmo è un mmo è un mmo è un mmo con i dlc no è un mmo e basta è anche anche world warcraft avanti con l'espansione sono un po' finisce ok un intero gioco di world warcraft attacco sul primo non ti durava quarta ore dietro all'inizio guarda che world warcraft durava veramente poco non quarta ore non quarta ore perché ci mettevi i secoli semplicemente a fare il livello ma semplicemente perché hanno messo l'esperienza che davano poca esperienza c'erano le secondarie davanti e semplicemente finiva subito all'istante comunque ce ne avevi da fare poca macchia all'inizio guarda che esperti non avevi niente da fare in world warcraft all'inizio ho appena uscito non avevi nulla avevi due dungeon se andava bene e basta ah sì ah sì ma di quella tutta la strada per arrivare al livello massimo la strada per arrivare al livello massimo era la noia più totale non è vero non è vero era la noia più totale ci mettevi mesi per arrivare al livello massimo e continuai a fare le stesse identiche cose vabbè sì farm quindi non è che sia così bello vabbè metti in due anche metti in due tipo dopo lì mi ricordo dopo il 30 che si saliva in una maniera vergognosa era quasi obbligatorio shoppare per prendere il coso che aveva esperienza semplicemente andava bene perché world warcraft all'inizio è uscito nel 2004 e vabbè ti accontentavi io mi ricordo il massimo che ho fatto su metti in due è stato il livello 43 e ma ci ho messo ma guarda veramente giocandoci tutto perché poi giocavo solo avevo solo quello sul portatile e non finivo mai cioè un mmo per me è anche ok dici non c'è più la storia ok a me va bene se la storia mi finisce a livello massimo ma in mezzo mettimi qualcosa mettimi un po' più di difficoltà per andare al massimo al massimo mettimi qualcosa che mi allunghi almeno con un mmo proprio perché 40 ore per andare al massimo di un mmo non è un mmo allora guarda che è tanto 40 ore per arrivare al livello massimo nel senso che tu continui a fare le stesse identiche cose per 40 ore è già fin troppo ma 40 ore per andare al massimo quello che finisce in 40 ore secondo me è tanto secondo me è troppo per un mmo che non è il fulcro del gioco arrivare al livello massimo perché il fulcro di un mmo è giocare dal livello massimo in poi eh ma se non c'è niente quello è un'altra cosa ma il fatto di arrivare al livello massimo è la noia il problema è che il fulcro di un mmo è arrivare al livello massimo e poi non c'è niente entri grazie manca solo un mese e niente ora mi sono anche beccato la torta sono felice spalde io voglio o mi metti roba in mezzo o mi metti roba in mezzo o mi metti roba in finale un dei due allora si accendono tutti i globi esatto Lorenzo che bellino sto gioco e qua si canta no è marco è quello che vuoi da pastiglio no la canzone che bellino vabbè sicuramente posso anche saltarla eh no perchè eh no copyright penso di poterla saltare no non posso vabbè posso parliamoci sopra un po' we can for the good of all of us except for ones who are dead ma abbassa il volume lino there's no sense crying over every mistake with a g but I'm trying to behave a rap che bellino tararararararararararararararararararararararararararararararararam tu tum tu tum tu tum dura così poco portal giocato così veloce si penso che la prima volta no in verità la prima volta sì è circa intorno alle 3-4 ore no non so abbattere a parte che è la prima volta che non sai le robe da fare infatti ci vuole un casino infatti dura un 3-4 ore più che altro perché devi capire un po' come funzionano i portali è notte, metti il volume a 0 infatti ora l'abbasserò mi dispiace però troppo tardi ah no, non viene considerato come volume di musica giustamente, quindi opzioni audio è bella che è still alive boh fai livelli difficili quasi quasi sì abbiamo ancora 20 minuti camera avanzate iniziamo con le varie camere avanzate è un vero peccato che la valve non fa più giochi single player è un vero peccato che la valve non fa più giochi infatti l'ultimo è dota ed è di secoli fa ormai ok stanze avanzate come potete vedere non ci sono cubi quindi? ah e si muore vero mi ero dimenticato di questa cosa credo fosse team fortress l'ultimo della valve nooo io l'ho comprato perché io mi ricordo il giorno in cui l'ho comprato team fortress quindi quando non era free to play no credo c'era dota merda ah ok ok sì ok 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 ha senso ok ok questo va qua io l'ho pagato 7 euro team fortress con era free to play quando l'ho preso dai infatti a me lo segna nella libreria steam non lo mette nei cioè i free to play quando lo disinstalli non segna nella libreria che si non ti sarà mai onorevole nullazzo grazie mille grazie onorevole nullazzo che brutta cosa che devo fare devo saltare là la digitazione a mai dire sì perfetto non cadere no non l'abbiamo mai nemmeno pensato anche se in 3 ah dai stronzo che paura il 4 soprattutto l'abbiamo giocato abbastanza noi ma anche il 3 3 meno era più il 4 quello che giocavamo di più non lo so 6 se è più il 3 no no era il 4 quello che giocavamo insieme mi ricordo anche perché avevo appena preso la scheda video nuova quindi mi ricordo bellissimo mi hanno giocato tutti e due era il periodo natalizio era bello Battlefield anche Star Wars Battlefront è carino però vedremo e alla fine Battlefield però io il corso di video per questo nuovo code non lo prenderò adesso ce l'ho in testa tutto per sempre che belline è ci sono un paio di mappe bonus camera avanzate che sono tipo qua no? non puoi mettere da nessuna parte le cose e quindi mi sa che dovrò più o meno farla bene molto più o meno allora uno era qua e l'altro però era tipo ma pezzi di merda pezzi di merda chi mi chiedeva prima privato e questo qua vabbè ma tanto non serve ah no perché devo prendere qualcosa il gioco della cittadina che dovete fare i misteri è single player però è una cosa la Monkey Island quindi per chi non è interessato no non penso si possa once again dru dru zagard 4 mesi sono bellissimi grazie per tutti i momenti divertiti e passati con voi grazie a tie dru zagard grazie mille eh no devo per forza ma appena l'ho visto vi ho pensato ho detto secondo me da fare il live è caruncio poi ci ho ripensato perché ah così si fa potrebbe non alla lunga potrebbe stufare comunque sono tanti soldini però guardateci un'occhiata perché merit dimmi dai che voglio dobbiamo fare la prigione appena c'ho voglia allora sei dirudendo i nostri fan Mark anche perché adesso sto riguardando ho preso un break un po' mi è venuto a voglia però dottor key fatemi esibili dottor key grazie mille dottor key l'atteristante non sono stato un mese senza l'interno no ho sbagliato beh adesso ce l'hai dai allora devo andare sulla destra ti buoni notte eh? ti buoni notte voglio vedere te farlo stronzo eh sì sì l'ho detto purtroppo purtroppo sì sì richard l'avevo detto prima infatti degli stessi di monkey island ok poi tu vai qua esatto ma sì ci riesco solo che queste le ho fatte una volta ma come vi chiuso la live? e qua c'è il problema e qua c'è il problema vedi 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 allora questo va così tu vai blu quindi qua blu 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 no ma torna adesso semplicemente dovevo avere un mattimino pasticcino achievement sbloccato poi proviamo ancora al prossimo però più andiamo avanti più diventano complichelli al prossimo dovrebbe essere quello con le torrette nelle gabbie mi sa? no l'altro quello con le torrette nelle gabbie è questo ed è cazzi eh grazie eh sì once again yeah nata here nata here 71 grazie mille per i due mesi grazie grazie dai a parte che ho sbagliato però vaffanculo pezzo di che cosa ho fatto con calma ok uno andato poi che palla è questa così senza virgola è mamma in otto comunque vaffida sì bene con quelle delle gabbie devi stare tutto stretto dietro il oddio questa beh no ci ho fatto tre no quattro live ci ho fatto sulla seconda prigione quanto ci ho fatto un po' ci ho fatto per non di stufare ma poi in realtà anche quelli che ci hanno giocato da soli per i fatti loro comunque un sacco di gente mi ha scritto che alla seconda prigione ci sono fermati uno perché era difficilotto e due perché poi ti rompi le balle dopo un po' perché fai sempre le stesse cose dai di là la prima prigione è stata divertente perché la stavo provando per la prima volta era fattibile comunque e mi divertivo a farle live dopo la seconda già la seconda live ero un po' così non è il massimo e se una cosa non mi fa divertire non è inutile farle live ok però il due appunto essendo in co-op magari può darmi qualche cosina in più un culo devo prendere un po' più di altezza come merda faccio da prendere un po' più di altezza come merda faccio non mi ricordo staccati perché vaffanculo KLaDOS vaffanculo e niente no si dicevo la maggior parte di quelli che mi hanno scritto Luke poi chiaro che tanti l'avranno finito proprio anche adesso perché non basta lo prende tanto tanto ti rompi le scatole dopo un po' qualcuno l'avrà finito prima o poi non basta non basta non mi ricordo basta non basta non basta non basta che danza che stavi facendo io no? hai visto? con la pancia con la pancia devi mettere il blu in alto non posso mettere aaaaa no non è vero non posso allora io ho il blu là no? mi serve per saltare non posso modificarlo non posso toccarlo da qua eh no qua non si può aaaaaa di pancia l'apparenza ah vero avete altri giochi in programma da portare si è qualcuno ma dobbiamo ancora valutare bene vero se ne uno che è perfetto per noi lo faremo sia in live e in video e arriverà in realtà due sono perfetti venerdì 13 dobbiamo prenderlo ma costa veramente aspettiamo i saldi probabilmente morirò cose no quindi sarà qua che sarà sbagliato perché altro un gioco però posso fare così c'ha illuso che è stato dovrebbe essere giusto che pensavamo di farci comunque un po' di roba invece purtroppo è morto il giorno dopo che coso eh eh Eliezer e quale? tower defense ah fortnite fortnite si che l'avevamo visto detto questo qui sembra proprio per noi le basi c'erano effettivamente forse c'era troppa roba era troppo complicata troppo ma no più che altro non ci ha preso come perciò cioè la prima partita io mi stavo dietro in un sacco e poi basta abbiamo fatto la live ci siamo divertiti un sacco poi dopo l'abbiamo abbandonato quasi subito eh non mi ricordo allora questo va là e mi spiace però se mi saldi dovrebbe essere Halloween ho preso rimbalza qua tra l'altro dovrebbe andare bene noi per venerdì 13 questo non va bene così è proprio il gioco in teoria dovrebbe essere sconto solo sarà comunque sconto di tantissimo però si infatti costrà comunque tanto e così torna indietro Castle Crash l'abbiamo già fatto in video ed è previsto cioè era una mezza idea di riportarlo in live per finirlo perché è giusto far la serie proprio in live si mamma mia però il problema è sempre col problema lì delle serie che in live danno cioè perché ci sono anche i train da fare in live è perché però tendi sempre a non attirare gente perché se una persona perde un episodio poi tende a non vederlo più giustamente si sta andando bene Darksoul perché comunque è Darksoul quello anche se entro sta andando bene si esatto se entro sta andando bene sono contentissimo è bello noi ci divertiamo a giocarlo sì allora c'è Pierpool poi io potrei fare una mezza roba in realtà però non mi interesserebbe a nessuno sono sempre lì cioè potrebbe essere divertente ma come no anche che è la storia di FIFA potrebbero venire fuori delle cose divertenti ma anche di momenti in cui non interessa nessuno però se vi interessa io lo compro comunque quindi se vi può interessare qualcosina su FIFA di delle nuove modalità ditemelo che può essere divertente da fare insieme in live tolto il Pro Club che lì poi dovranno decidere gli altri li vedremo devono spiegare come cazzo l'ha fatto a rimbalzare così ok io non ho idea è NBA ma probabilmente li prendo tutti e due sai Lukanta quindi non è se vi piace anche NBA posso però bisogna sempre vedere perché già NBA di cose divertenti effettivamente non ne succedono su FIFA si poi NBA magari mi piace di più da giocare perché vabbè NBA però come cose divertenti che succedono forse non succedono più potrei fare il esatto il My Team è stato sempre una serie che ho proposto agli altri ma nessuno frega niente dei giochi NBA qua quindi non avrebbe senso se volete lo faccio in live uno dei due lo posso fare in live dipende da voi ragazzi se non ve lo guardate è inutile e fino a qua è facile buona caramonara Pender ma come sta per qua inizia a essere complichello grazie al cielo Pender si faceva benissimo a livello di salute secondo me ah tu guardi me proprio il girbante di Gad stiamo bassi sicuramente tra i due giochi al nostro pubblico interessa più NBA sicuramente quello anche perché me lo scrivete spesso però io li dovrei comprare più soprattutto se non prendo destini quindi se vi può piacere ogni tanto posso fare qualche ok ripeto togliete il tutto ah merda ho sbagliato quello li dipende dagli altri non posso obbligare tutti i termos a prendere FIFA perché ahia ma allora stupida cosa ah basta no FIFA sì in realtà la storia è già una cosa in più perché è molto bella la storia di FIFA però ormai si è Ultimate Team la cosa forte come sempre uno là e vabbè corro ok allora devo tipo ripeto magari lo provo una volta e vedo come reagite in live vedo che non vi piace non lo facciamo più ciao ciao andrew allora che cazzo è finito quello sì comunque giusto per magari i nuovi fatevi un'idea andate a vedere abbiamo le playlist con i pro club sì esatto quindi magari se vi va di andare a recuperare sul canale principale niente non c'ho voglia di farla sono sono quali tanto stiamo chiudendo sì sbagliato sono anche per chi non piace il calcio forse soprattutto a chi non piace il calcio sono molto divertenti secondo me anche perché ci gioca gente come Esplit che penso di non averlo mai sentito dire niente sul calcio no no non c'entra non siamo cioè gli unici che seguiamo un po' il calcio siamo io gli u praticamente seguiamo lo sport in generale quindi prendo la mia musica e mi metto qua qua no non cadere non cadere radio mi metto con la mia radio qua e voglio vedere come mi colpisco ora ragazzi grazie per essere passati direi che allora video oggi pomeriggio di rainbow yes e noi ci vediamo stasera non si sa cosa esatto buon appetito ciao buon pranzo ciao paparapapam ciao